Turno infrasettimanale allo stadio Civitelle, testa coda tra l'ultima della classe e l'Olimpia, intenzionata a lasciare quanto prima i bassifondi del girone e la capolista Campobasso. Cudini attua per l'occasione un ampio turnover. Nei Granata si rivede l'ex capitano croato Pejic in cabina di regia assieme a Di Lollo. Spazio tra i pali all'under Caputo per l'undici affidato in panchina Mario Fusaro. Dirige il match Lorenzo Meccarini della sezione di Arezzo. Per il derby Granata di casa scelgono il completo bianco, la classica blusa rosso-blu per la formazione viaggiante. Pronti via, i lupi mettono in casso la prima marcatura. L'ex vittorio esposito apre da sinistra a destra con un perfetto arcobaleno catapultato sulla testa di Vitali che incrocia l'angolo e fa secco Caputo. Non sono trascorsi neanche tre giri di lancette. 4-3-3 speculare i sistemi adottati da entrambe le panchine. Per il Campobasso, l'adu e il metronomo esposito lo spauracchio dal quale partono gli assist più interessanti come al quarto d'ora. Il numero 10 inventa per Van Zan. Lo stantuffo mancino arriva sul fondo. A rimorchio Vitali anticipa i difensori centrali e fissa il risultato sullo 0-2. Rossetti scarica in porta dopo un travolgente contropiede dei suoi. Caputo ci mette i guantoni e spedisce in angolo. In campo aperto gli ospiti fanno valere le qualità tecniche e la superiorità atletica. L'agnonese è stordita ma non abbattuta. I meccanismi dei rosso-blu sono però oleati a dovere. Rossetti scardina il cuoio dai piedi di Pejic e si invola verso l'area avversaria. Candellori gli subentra nella trama e timbra il palo. Caputo si salva al 27esimo per la posizione irregolare del numero 8 ospite. Proiezioni in avanti per l'Olimpia dai piedi di Ferri. L'esterno d'attacco mancino. Il tiro sibila dal basso verso l'alto ma Racichini controlla con lo sguardo. Van Zan per Rossetti dopo il velo di Candellori. Nel 4 contro 2 il centro avanti del campo basso è egoista. La conclusione si adagia tra le braccia di Caputo. 37esimo ripartenza di classe della capolista. Candellori prende palla, si accentra e scarica all'angolo. Caputo è in ritardo e viene infilato per la terza volta. Sesta rete per il centrocampista in questo torneo. Palla filtrante in area rosso-blu si avventa all'argentino Abercon. L'estremo Racichini tiene inviolata la sua porta prima del rientro negli spogliatoi. Netta la supremazia degli ospiti. In lungo e largo il risultato al termine dei primi 45 minuti non fa una grinza. Buono prende il posto di Ferri nei locali nel secondo tempo. Proprio il neo entrato spinge alle spalle ingenuamente esposito in uscita dai 16 metri. Il fantasista di San Martino si presenta sul dischetto e consegna ai suoi il 4-0. Nulla da fare per Caputo, costretto ad inchinarsi ancora una volta. Nei rosso-blu si infortuna Martino, gli subentra Fabriani sulla corsia destra. Ottavo minuto dall'angolo di Bottalico si impappina la retroguardia di mister Cudini. Racichini non riesce ad evitare che la palla varchi la linea bianca. sul tocco del compagno di reparto Van Zan. L'Olimpia riduce le distanze. La migliore trama dell'Agnonese porta in rete l'attaccante Sosa. I bianchi di casa fanno girare palla molto velocemente. Racichini deve inchinarsi per la seconda volta in pochi minuti. Applausi dalle gradinate per la reazione d'orgoglio. Il campo basso non si scompone e trova la quinta rete ancora con Rossetti il centravanti. Ma sono evidenti le amnesie difensive dei padroni di casa. La capolista riscava il solco e passa sul 5-2. Torre in area di Nicolopoulos, il difensore centrale. Granata, buono, scarica il volo verso la porta. Il fischietto Meccarini è coperto e lascia correre il possibile fallo di mano. L'Olimpia gioca senza più nulla da perdere. Abercon disegna una parabola all'angolo da calcio piazzato. Racichini non è da meno. Applausi. La gara non ha più nulla da chiedere. Campobasso sempre più da solo in vetta al raggruppamento F. Perigranata una sconfitta pesante nei numeri, la sesta consecutiva, ma con qualche sprazzo di reazione dignitosa al cospetto della prima della classe.